Start, 2, 1, Mystery Mission, and Liftoff! Che cosa c'è? C'è la campagna, c'è il tutorial, c'è il giocatore singolo dove abbiamo la possibilità di giocare vari scenari, ma quello su cui voglio, diciamo, intrigarvi è il tutorial, perché è un gioco che, vabbè, vi permetterà anche di ospitare, sembra quasi un disturbo questo suono qua, vi permetterà di ospitare un server e giocare con amici. Quindi non ho mai provato il multiplayer, magari un domani lo provo, dovrebbe essere una partita tipo asincrona. Comunque, il tutorial ve lo faccio vedere immediatamente perché il gioco pare anche essere tradotto non con un traduttore universale, ma con un traduttore specifico. Sottili gocce di pioggia cadono su conglomerati di capanne ai piedi di un vecchio castello di legno, sotto l'incombente cielo grigio, si prepara una tempesta. Vedete, poi, avvicinati e rimanimi accanto, Tancred, dice il conte Edmond di Tannheim, se ero mai matura, sufficienza da prendere il contegno con facente un sovrano, c'è tradotto proprio bene. Ma il gioco era profondamente diverso, anche a livello di menu, rispetto al video che avevo fatto nel 2020. Ora, lo proviamo, proviamo un attimino il tutorial, giusto per farvi capire se il gioco può piacervi. Dobbiamo iniziare a coltivare, abbiamo il nostro villaggio, il villaggio del tutorial, dobbiamo aspettare l'autunno per poter raccogliere il raccolto. I villici possono essere anche lasciati premendo il pulsante sinistra, ok. Bust per muoverci, rotella per impicciolire. Dobbiamo seguire una serie di attività. Vedete, questa è la mappa, la mappa è molto gradevole, questa non mi pare cambiata, abbiamo le varie città. Poi abbiamo la nostra, passa il mouse su questo obiettivo, se lo selezioniamo ci dice, ok. Posiziono due villici al campo di grano, quindi io prendo il villico, lo trascino al campo di grano, in realtà posso prendere anche più di uno cliccando più volte, li scarico tutti e due. Invia un villico alla segheria, la segheria è questa, quindi prendo un villico e lo posiziono lì. E quindi questi edifici diventano operativi. Comincio a costruire una locanda. La locanda è possibile costruirla in questi luoghi dove a contatto con la città ci viene proposto col tasto destro di poterla costruire. Ci costa 195 monete, 260 assi, 46 di lana e tempo di costruzione 6. Ospita 500 persone. Abbiamo anche altri, bagno, caserno, facciamo questa. Abbiamo messo in costruzione quella, costruiamo un mulino. Il mulino invece ha una costruzione un po' diversa perché non la facciamo qua, ma la facciamo su un campo cliccando con il destro e scegliendo di aggiungere un miglioramento. Il miglioramento è, prima avevamo la possibilità di adibire il campo ad altre culture o animali, qua invece abbiamo il mulino. E il mulino vedete che compare qui, molto bello da vedere. Terminiamo il turno perché Rising Lords resta un gioco con partite a turni. Inizia il nuovo turno. Eni, il raccorto è stato abbondante, ma l'inverno è comparso in anticipo. Dopo le piogge torrenziali, le temperature sono precipitate e nonno gelo ha già afferrato la terra nella sua stretta di ghiaccio. Ogni finestra del castello è stata serrata, pesanti tendaggi ricoprono in corridoi e nel grande fallo del salone principale è scoppiata un fuoco perenne. In un momento di riposo dall'addestramento dei suoi doveri quotidiani, Tanker si unisce al padre Edmund e la madre Ava al tavolo. Sì, ne sono in grado. Il conto è sorrida, Tanker, se... ok, va bene qua. Hai perso un lavoratore a Tannenheim? La forza lavoro di una regione dipende dalla crescita della popolazione. 250 di popolazione è uguale un lavoratore. Perfetto, si stanno diffondendo voci riguardo orsi feroci. Infatti eccolo qua. Quindi, invia villici a combattere l'orso. Quindi io prendo un villico e lo mando qua a combattere l'orso, sperando ce la possa fare. Dobbiamo acquistare 20 pecore adesso. Vado veloce perché più o meno ho già fatto. Io qui ho il mio mercante che è arrivato qui e posso comprare 20 pecore. Quindi vado e compro... no, non 100. Con Control posso prenderne 10 alla volta e con lo Shift 100. Compro 20 pecore, accetto. Comincio a fabbricare gli archi. Quindi io tecnicamente devo prendere un villico, mandarlo qui alla fucina, cliccare e fare la costruzione di archi. Ok. Destina un campo all'allevamento di pecore. Quindi mi dice anche dove. Clicchiamo qui e facciamo pecore. E le pecore vanno lì. Destina un campo all'allevamento di pecore. Posizionavi un villico. Ok. Ci resta solo un villico. Quindi lo mettiamo le. È diventato un pastore. Raddoppia le razioni. Qua sotto, vedete, abbiamo le tasse e le razioni. Raddoppiamo le razioni. Ovviamente io ve la faccio semplice, ma in gioco sarà molto più complesso perché dovremo calcolare le entrate e le uscite. L'inverno è stato lungo. Qua vabbè c'è la storia. Poi in gioco ci sarà appunto la campagna con la storia. Dobbiamo raddoppiare le decime. Quindi non un quarto di decime, non le mezze, non le comuni, ma le doppie. Creerà malcontento, però ci consentirà di poter andare in guerra perché con questo tasto, qua vedete che ne abbiamo altri, con le disposizioni per inviare cibo a un'altra regione. Abbiamo la diplomazia, ma qua abbiamo l'esercito. L'esercito ci consente di andare a creare il nostro esercito da mandare in battaglia. Vengono presi i cittadini. Devo ancora capire a pieno come funziona, però io intanto posso prendere i villici e mi dice fammi 5 cavalieri, quindi io ne scelgo 5. Vedete che adesso sono villici normalissimi. Io clicco e li faccio diventare cavalieri. Poi 30 arcieri, quindi io con lo ship, no non con lo ship, ma col control. 30, 30 arcieri, 15 lanceri, quindi 10, 15 lanceri che sono questi. e 50 villici, quindi 50 semplici, semplici. Ok. Credo sia sufficiente. Assicurate di avere tutte le unità specificate. Hai 10 picchieri in unità, ma devi averne 15 o più. Ah, 10 picchieri, ma mi aveva detto 15 lanceri. È vero. 15. Mi clicca troppo veloce. Ok. Possiamo usare i punti esperienza del generale. Araduno all'esercito. Ok, abbiamo il nostro esercito. Ordino all'esercito di marciare verso il confine con Perle and Back. Quindi io clicco, clicco, clicco qui, clicco lì e loro vanno lì. Termino il turno. È molto più gradevole in italiano. Molto. Adesso dovremmo iniziare una parte intrigante. Praticamente abbiamo due carte scala, tre carte... Ok. Allora, praticamente noi adesso aprendo l'esercito, tecnicamente, vedete che abbiamo due carte... Quindi, usa il pulsante sinistro del mouse, deve sbloccare o migliorare un'unità, massimizzarla per raggiungere la carta... Ok. Possiamo scegliere frecce infuocate. No, devo scegliere scala, giustamente, perché dobbiamo fare un assedio. Quindi, prendo la scala... Scegli due carte scala. Una. Una su... E due. Ok. Scegli tre carte aggiuntive. Usa il pulsante sinistro per sbloccare o migliorare la reda. Ok. Facciamole fare c'è infuocate. No, non posso. Adesso confermo questo. Ci sono ancora incarichi da completare. No, devo capire quale... Ah, ma queste carte qua. Ok. Mira. Una. Prendiamo anche muro di scudi. E prendiamo anche... Devo capire bene. Grido di guerra, dai. Le prendo a caso, giusto per andare avanti. Sposta l'esercito per l'emba. Quindi qua, confermiamo. Salvare le carte nel mazzo. Sì. Perfetto. E andiamo a... Perlenbach. Che è... Qui. Qui. Dov'è che devo andare? Perlenbach. Ah, qua. Ok. Mi muovo qua. Termina il turno. Ok. Andiamo avanti. Sì, i villici si stanno spostando. Ok, il nostro esercito sta raggiungendo la zona del villaggio, che è già in fiamme. Mentre raggiungono le mura, cominciano a cogliersi indizi di ciò che è avvenuto a Perlenbach. Diverse abitazioni sembrano essere state saccheggiate. Il terreno è cosparso di barili distrutti, forzieri rovesciati e cadaveri. Le uniche forme di vita sono gli uomini armati radunati presso il cancello. Hanno un aspetto duro e carico d'odio. Se inizialmente sembrano una cozzale di furfanti, Tankred nota la parvenza di un uniforme corredata da un nasto bianco annodato. Alla battaglia! Che devo fare? Alla battaglia! Vediamo anche la battaglia! Adesso abbiamo alzato le tasse perché dovevamo andare in guerra, immagino. Comunque, Edmond si rivolge a Tankred. So che questa è la tua prima vera battaglia, ma confido in te, va bene. Spero ci spieghino come funziona. Posiziona gli aceri sulla collina. Quindi gli aceri li posizioniamo qua sulla collina. Bellino! I lanceri nella foresta. Endoella, foresta. Qua. I lanceri nella foresta. I villici nella palude, perché sono quelli che devono morire. E i cavalieri sulla pianura, che è qui. Perfetto. Raggruppa i cavalieri. Cavalieri dell'unità generale. Vabbè. Scale. Accetto. Accetta le carte, le seguite e aggiungile alla tua mano. Ok, abbiamo la nostra carte. Allora, qua è la città. Morale e capucciale. Per fare in modo che... Ok, il colore è rosso. Il colore indica il morale. Verde se è alto, rosso se è basso. Ok. Ecco un suggerimento. Se un muro di legno ti blocca la strada, puoi distruggirlo attaccandolo due volte. Se invece applichi una carta a scala, lo scavalcheranno in un turno. Ok. Allora, proteggi il generale. Il generale qua. Allora, io manderei... Beh, loro possono attaccare questi. Ok. No. Possiamo muovere... Ok, abbiamo controvattuto. Ok, la scala. La scala sul muro, qua? Ah no, dobbiamo proprio avvicinarci di più. Attacca questi. Ok. Sì, credo sia una battaglia studiata più di acermonale. Ok. Ma c'ha imbeccato gli aceri. Sì, i picchieri. Allora, io direi che possiamo mandare... Loro possono fare solo questo. Ne perdiamo da 0 a 2 e loro ne perdono 3. E ne abbiamo perso via. Ok. L'esercito di mimiti ha perso un po' della sua volta. Ok. Allora, voi potete usare la scala lì, no? Ah, devo iniziare gli aceri. Vabbè, attaccate questi, va. Ok. Mamma mia. Ok, loro possono usare la carta scala. No. Scusate, ma... Ok. Ah no, ma usano la carta scala loro. E vabbè, non ce l'abbiamo fatta usarla. Scala. Qui. Non me la fa usare su nessuna... Ah, la posso applicare a una unità? Ah, loro. Ok. Loro possono scalare le mura. Ok. Vabbè, intanto attaccano loro. E poi loro potranno scalare. Questi ci stanno dando un po' di noia. Posso usare la carta, no? Attacchiamo. Hanno sconfitto metà del nostro esercito. Il loro, immagino, perché il nostro è ancora bello, bello forte. Qua in alto c'è la linea di attacco, cioè di turni. Ok. Questi sono molto pericolosi, ma non ci fanno niente. Loro, posso usare la scala... No, non vanno su di loro. Sui cavalieri non vanno. Vabbè, allora vanno avanti qua. Continuate ad attaccare qua. Hanno attaccato un'altra parete. Vabbè. Allora, voi avete la scala, quindi tecnicamente potreste scavalcare. Allora. Ha messo la scala. Bello. Ah, in un turno. Il turno prossimo possono attaccare. Ok. Loro attaccano lì. Quasi andati. C'è una carta. Ok. Le truppe stanno scappando dal campo di battaglia. Questo succede quando il morale raggiunge lo zero. Ok, abbiamo vinto. Ok, abbiamo perso anche 11 unità. Abbiamo vinto contro i banditi. Bellino la parte di assedio. Bellino la parte di assedio e bellino altrettanto la parte di pianificazione del villaggio con le tasse e con tutto. In questo caso va avanti la storia e ci raccontano. Vabbè, che va avanti. Il mercante ci sta seguendo. Non so cosa devo fare. Invia i villici e estingue l'incendio. I villici sono questi. Li mando là. Ne mando più di uno così almeno lo estinguono. Ah, al massimo quelli. Ok, li mando lì così. Li mando anche operativo la città. Acquista almeno 200 botti di birra dal mercante. Quindi le botti di birra ne compriamo 200. No. Almeno 200. A vero, 320 ne compriamo. Invia 500 unità di grano da Tanmay a Pearlback. E io come cacchio faccio? Mandarlo. Qui. Allora, 500 unità. Quindi, 500. A Pearlback. Ok. E c'è il carretto che si prepara. Ricostruisci le mura. Quindi? Posizione a V10 per estinguere l'incendio. No, come faccio a ricostruire? Ok, così. Mura di legno. Tempo di costruzione 2. Ah, devo cliccare qua. Ok. Ricostruisci le mura. Queste. Perfetto. Ricostruisci le dimore. Quindi qui. Riclicca. Il dimore. Eccole qua. Rimuovi le scale del mazzo di carte. Cioè? No, qua è sempre la storia. Devo andare nell'esercito, credo. Rimuovi la panoramica della regna. Ok, qua abbiamo fatto. Confermo. Non so perché me le fa togliere. No, non me le ha tolte. Non ho confermato. Allora. Clicco qui. Manna. Già sto facendo casino. Mazzo. Elimina. Elimina. Trovare le carte. Sì. Perfetto. Qua abbiamo fatto. Salve l'esercito. Ok. Apri la panoramica della regna. Ok, qua. Panoramica mostra lo stato delle tue regioni in un unico colpo. Ok. Ok. Abbiamo questi due. Con la salute, l'umore, insomma la ricchezza e così via. Ok. Attiva la gestione automatica per due province. Che si fa? Non so da dove. Qui. Immagino. Ok. Invia l'esercito al confine con Tarasso. L'esercito va al confine con Tarasso. Perfetto. E passo il turno. Ok. Elaborazione del turno. Comunque anche andando a vedere le recensioni, a parte che è per lo più positiva, ma devo dire che per quanto riguarda comunque soprattutto gli italiani lo trovano molto bello il gioco e sembra essere fatto davvero bene e il fatto che l'abbiano tradotto è comunque un surplus. Ora. qua abbiamo un altro combattimento da fare e quindi dobbiamo posizionare le nostre truppe. Ah, li possiamo mettere insieme. Ok. E qua abbiamo le carte che ci vengono assegnate e quindi qui. protegge il generale, sconfiggi i lancieri. Ok. devono attaccare questi. Ma li hanno attaccati corpo a corpo. Vabbè. Ragazzi, io con questo vi saluto. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questo titolo. Calcolate che abbiamo ancora tutta la parte di gioco libero, che non abbiamo visto perché siamo solo nel tutorial, e anche la parte online. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo Rising Lords. E... Alla prossima e insomma, fatemi sapere. Ciao ciao.